Davide Perino, mamma mia! No, senti, questa volta io non ce la faccio, non ce la faccio perché tu sei così dolce, non so da dove cominciare. Con te proverò delle difficoltà, perché tu sei speciale. Da dove dovrei cominciare? Guarda che fisichetto che c'hai! Ma poi non tutti sanno chi sei tu, la voce di Shia Leboeuf, la tua in Italia, Jesse Eisenberg, la tua! Sei grande Davide, ma poi guarda che fascino, che energia si vede, tu sei secondo me di origine irlandese, con questa barba così sagomata, pulita, hai tutta questa carica del nord. Dimmi un po', bevi anche eh? Ti piace il vino? Bravo, lo sapevo! Davide Perino, quanta energia hai? Sei un uomo d'azione, lo so perché tu fai un sacco di sport, vero? Sì, lo sapevo, lo sapevo! Oh mamma mia, sono veramente imbarazzato, però sono felice perché posso parlare di te, che hai questo modo di essere, questo carisma, poi la tua voce, la tua voce è quella dell'eterno giovane, a volte un po' stronzetto, che però piace, capito? C'è quella verve... ammettila, la tua ragazza l'hai conquistata così eh? Dilla verità, dai Davide, dimmelo, a me puoi dirlo! Cioè non lo dire, lo puoi, ecco sì. Oh grande Davide, allora senti posso chiederti una cosa? Non voglio che tu mi insegni come diventare come te, figo come te o cose così, beh però mi fai sentire la tua voce? Almeno un po', solo un attimo, per favore. No, no, è qualcosa di più, ma dimmi qualcosa, però questa è stata bella, mi è piaciuto anche lei, dimmi, di ciao. Fai un saluto. No, ma no, ma non ti conosceranno mai così, Davide! Va bene, va bene, ci accontentiamo, sei un grande, ok? Ciao, Frodo!